Fanno, città turistica, è nel pieno degrado. Ne è convinta l'associazione Nuova Fanno, riferendosi a tutta la zona costiera da Fosso Seiore a Ponte Sasso. Siamo già a fine giugno e i mesi di alta stagione sono alle porte. Peccato che, al posto di essere un biglietto da visita della città, per l'associazione politica il lungomare è stato dimenticato dall'amministrazione comunale. Giardini non custoditi, pavimenti ridotti a macerie, per non parlare della passeggiata dell'Isippo, abbandonata a se stessa. Il sottopassaggio di Baia Metauro è fatiscente, mentre il Lido è diventato un luogo desolante. Ciò che manca per Nuova Fanno è l'attenzione anche alle piccole cose e, in particolare, alla manutenzione ordinaria. Non diamo la colpa al Covid perché ormai questo è uno scenario che lo vediamo già d'anno scorso e forse anche già da due anni fa. Questo è l'eterno cantiere pieno di ombre che speriamo che quest'anno, veramente, da quello che vedo dei lavori che stanno facendo di chiusura, che sia una chiusura permanente, anche perché l'apertura e la chiusura dei cantieri ogni anno ha un costo enorme. Forse dovrebbero avere il coraggio di spostarsi oltre il Pincio e rendersi conto veramente di com'è la situazione al di là del Pincio, perché il turismo, quando viene a Fanno, deve entrare in una porta, in una casa che ha comunque un contorno accogliente e tutta la sua bellezza. Sempre a Lido, poi, il parcheggio dell'ex Hotel Vittoria, messo a disposizione del Comune, è ancora chiuso e ci risulta, prosegue Polegioni, che la proprietà, giustamente, non voglia delle responsabilità, visto che l'amministrazione comunale non ha voluto metterlo in sicurezza, tantomeno stipulare un'assicurazione per eventuali danni a persone o cose. Questa mattina, però, qualcuno si è spazientito e, da come ci ha riportato un testimone, un cittadino ha divelto la rete di chiusura provvisoria per accedere e parcheggiare la sua auto. A Sassonia di Fanno, invece, la situazione non è migliore. Noi ci troviamo nella passeggiata dell'Isippo, che è una delle passeggiate più belle di Fanno e che dovrebbe essere valorizzata. Abbiamo visto negli anni che è stato un bel progetto fatto dai ragazzi, che comunque gli ha dato un certo valore e gli ha dato anche una certa visibilità. Però poi, come tutto accade, se non viene manutenzionato o comunque non viene controllato tutto quanto, le scritte sbiadiscono. Ecco, noi chiediamo all'amministrazione comunale questo, di non far partire progetti e poi lasciarli a se stessi, di non fare questi spot da campagna elettorale e poi lasciare tutto nel dimenticatoio. Vogliamo che fanno meriti quello di cui ho bisogno, di attenzione, di cura e soprattutto di un occhio di riguardo per quelle piccole perle che ha, perché ne ha tante. Per raggiungere questo obiettivo, Nuova Fanno propone di istituire una squadra permanente che si occupi soltanto di manutenzione, così come già avviene in tante altre città. Vi diamo proprio questo all'amministrazione, attraverso anche Asset magari, di creare una squadra che si occupi proprio di questo, in modo che Fanno possa avere più attenzione e possa essere resa accogliente già da prima che inizia la stagione turistica.